Buongiorno a tutti, allora, niente, riaccomi con un video da voi veramente super mega iper richiesto organizzando lo studio per agosto ho deciso di registrare finalmente questo video per voi ho deciso di farvi vedere in generale come io organizzo gli esami innanzitutto ovviamente a mio parere l'organizzazione di un esame, l'organizzazione di come si studia dipende ovviamente da facoltà a facoltà, dipende da quanto tempo si ha vi consiglio di prendere i miei consigli, sì, ma di cercare magari di rearrangiarli nel vostro campo contate che io appunto faccio infermeristica, adesso vi dirò anche tutto l'esame eccetera partiamo dal presupposto che io abbia tutto il mese di agosto per studiare durante l'anno non è così, quindi tecnicamente durante l'anno l'organizzazione dello studio è molto diverso dall'organizzazione estiva magari abbiamo tre settimane per poter studiare e poi dopo c'è il tirocinio col tirocinio sicuramente hai meno tempo per studiare io ho deciso quest'anno di non andare in ferie, speriamo che questa cosa porti bene nel senso che mi sono fatta sì quattro giorni al mare, cose del genere però ad agosto diciamo che non ho organizzato nulla di che proprio per appunto potermi organizzare al meglio per l'esame che devo dare a settembre l'esame che devo dare a settembre è un esame abbastanza corposo è un esame del secondo anno, l'ultimo che devo dare di medicina specialistica composto tipo da otto o nove materie, una cosa del genere ed è sia scritto che orale essendoci anche l'orale e avendo tempo diciamo che io mi preparerò esclusivamente mi preparerò come se io il 4 di settembre dovrò dare l'esame orale nonostante sia scritto innanzitutto per poterlo organizzare bisogna capire effettivamente com'è l'esame se è scritto orale io tendenzialmente cerco perlomeno di prepararmi come se andassi ad un orale se invece è solamente scritto diciamo che i blocchi di ripetizione di quando io ripeto diminuiscono un pochettino questo perché effettivamente un esame scritto è totalmente diverso da un esame orale una volta fatto questo cerco di capire appunto io il 4 di settembre avrò l'esame scritto mi informo e cerco di capire generalmente tipo da me gli esami scritti sono a crocette ok? materia per materia dovete anche capire il tempo cioè nel senso quanto dura l'esame due ore, un'ora e mezza, un'ora e dieci eccetera 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 una volta che avete tutte queste informazioni voi potete organizzarvi l'ora è molto importante perché voi almeno io ho sempre preso un esame scritto soprattutto a crocette come se fosse un test ingresso quindi il tempo lo dovete giocare a vostro favore non deve diventare un vostro svantaggio ok? partiamo da questo presupposto generalmente consiglio sempre di farvi guardare in generale tutti i vari fogli nel momento in cui dite vabbè io in questa materia perché per esempio da me in un esame ci sono più materie se all'interno di una materia andate meglio partite da su quello ma io vi dico di partire su quello semplicemente per far sì che quella cosa diventi un input che vi dia carica e concentrazione una volta fatto questo dovete darvi un determinato tempo se dite io... cioè perché quando registro i video devono passare gli spazzini? non ho capito questa cosa una volta detto questo nel momento in cui voi riuscite a dare un determinato tempo ad ogni determinata materia vi sarà anche più semplice anche l'ansia, anche sì è vero l'ansia c'è sempre di base però credetemi che se siete concentrati, siete focalizzati sul vostro obiettivo l'ansia la mettete da parte forse sembrerò un po' maniaca però diciamo che così anche se magari non studiavo tantissimo, avevo poco tempo ma organizzavo in generale gli esami così in generale li ho sempre passati magari non con voti altissimi, eccelsi, eccetera però li ho sempre passati ricordatevi che io non sono da 30 elode non sono una secchiona e se posso studiare poco, studio poco partiamo dal presupposto che io sono una persona umana e che nella vita ho anche altro da fare e non sono un genio, perché ricordiamoci che ci sono anche i geni che leggono una cosa e la sanno già e bruciano il libro cioè non ho manco bisogno del libro diciamo che io di solito mi concedo 3 o 4 giorni se posso ovviamente in questo momento posso permettermelo perché ho comunque un arco di tempo abbastanza largo cerco praticamente di racimolare tutto il materiale per poter studiare quindi cosa faccio? racimolo tutti gli appunti racimolo tutte le cose online, cose del genere per avere un focus di tutte le robe che devo mettere in ordine all'interno della mia vita questa cosa un po' mi prende giorni perché magari, non so, mi sono persa determinate lezioni non sono stata attenta a cose del genere mi sono persa dei pezzi però perlomeno avere il programma d'esame è veramente importante nel momento in cui dite sì, ok, ho questo libro, questo, 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 questo allora forse posso iniziare ad organizzare diciamo che io per velocizzarmi ho la fortuna di avere alcune lezioni di teledidattica soprattutto della parte di clinica online che sono offerte appunto dalla mia università quindi noi generalmente seguiamo in università però poi le lezioni sono registrate perché non è che esiste solamente la sede di Monza ma esistono altre sedi che sono sedi remote al di fuori di Monza come Bergamo, Lecco, eccetera se avete visto il mio video per quanto riguarda infermieristica al primo anno in Bicocca l'avrete sicuramente visto e noi con la videoconferenza comunichiamo anche con le altre sedi remote e quindi appunto le lezioni sono registrate io principalmente cerco di riascoltarmi quelle ma perché? Perché ho capito che io imparo molto meglio e molto più velocemente ascoltando che mettendomi a leggere, sottolineare e fare e disfare quindi cerco di suddividere le settimane dal lunedì al venerdì come se avessi una lezione diciamo così e ovviamente concedendomi anche le pause perché se comunque sia magari ho un determinato impegno o una determinata cosa io già me la punto prima sul foglio una volta fatto questo inizio a capire un attimino da dove voglio iniziare a studiare dal tipo di materia che voglio iniziare a sbobinare piuttosto che a schematizzare a leggere magari qualche approfondimento sul libro eccetera 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 ovviamente io parto dalle lezioni e poi magari amplio anche con i libri quest'anno comunque mi sono presa anche dei libri perché da me sono abbastanza famosi i Brunner quindi penso che approfondirò sicuramente anche con il Brunner quindi diciamo che passo le prime due settimane all'incirca a leggere schematizzare a crearmi tutto il mio ambaradamma per poter avere sotto un piano di lavoro per poter dire ok cavolo non mi ricordo questo argomento ok so dove devo andare a cercarlo so che l'ho scritto io so che l'ho creato io una volta fatto questo mi suddivido mi do diciamo un'altra settimana e qualche altro giorno esclusivamente di ripetizioni le ripetizioni se mi seguite all'interno dei miei vari vlog sapete che io ripeto generalmente prima a blocchi mi faccio magari le domande più frequenti me le scrivo all'interno di alcuni post-it metto tutto dentro una bustina dentro un barattolino dove voglio pesco e inizio a ripetere la domanda quello non è che ha bisogno di tempo non ha bisogno di tempo eccetera nel senso che generalmente magari io posso ripetere per un'ora due ore poi dopo faccio pausa faccio altro poi ritorno a ripetere oppure magari posso ripetere per 4-5 ore però poi al pomeriggio non faccio niente dipende ovviamente sempre dagli impegni che uno ha se hai tanto tempo e se esclusivamente magari questo mese per esempio io me lo sono dato per studiare quindi magari studierò tipo la mattina al pomeriggio me lo terrò un po' più tranquillo diciamo che dalla data dell'esame io mi tengo sempre 7 giorni quei 7 giorni sono dei 7 giorni di ripasso che magari possono essere di ripasso con altre persone che magari possono essere di ripasso perché io determinati argomenti non li ho capiti però mi tengo sempre di default 7 giorni quei 7 giorni lì alla fine è solamente un ripasso tra il leggere ripetere eccetera diciamo che essendo la prima parte dell'esame un esame scritto passerò il tempo fondamentalmente a rileggere tutti i miei schemi a rileggere tutte le cose in generale molto in generale diciamo che sarà l'ultima fase molto più blanda principalmente io divido lo studio così quindi schemi schematizzo sottolineo faccio mi creo tutti i miei post-it mi creo tutti i fogli stampo scrivo al computer faccio tutto quello che voglio poi inizio a ripetere e una volta fatto quello mi tengo l'arco di tempo ripetizione io lo chiamo diciamo di passo definitivo che mi serve effettivamente se magari non ho capito determinate cose una volta arrivato questo non è finita qui ovviamente poi arriva la data dell'esame do l'esame generalmente da me se è scritto ok basta dito morte morire quello è il giorno quello è l'assa ovviamente poi ci saranno i giorni successivi perché per esempio il mio sarà scritto e orale bisogna sempre informarsi di quando ci sarà l'orale all'incirca anche se appunto magari il risultato dell'esame se avete passato lo scritto uscirà magari il giorno prima perché da me per esempio è sempre così e ovviamente ci si deve organizzare anche quell'arco di tempo semplicemente per tenersi in allenamento per non dimenticarsi comunque quello che abbiamo studiato precedentemente anche lì generalmente suddivido i giorni è molto semplice in base ovviamente ai miei impegni per esempio io a metà a settembre vado via tre giorni e quindi io mi segno sempre tutte le cose che devo fare per poter avere contare praticamente i giorni potermi suddividere i giorni dividendomili nei vari blocchi di ripetizione questo è il mio metodo per potermi organizzare penso che in generale un metodo del generale a prescindere adesso che io magari andrò a fare a dire lunedì mi rivedo tre o quattro le lezioni di quella determinata materia che a voi probabilmente non mi refregerà niente e se vi interessa vi consiglio di seguire i miei vlog perché da settimana prossima farò appunto il vlog dei termini che sicuramente magari coinvolgerò anche una parte dello comunque sia questo è principalmente quello che io faccio e che in generale penso che sia anche il più cioè comunque sia questo è quello che io in generale faccio per far sì che questo tipo di organizzazione potesse essere universale appunto per la maggior parte delle facoltà però mi rendo conto che magari non lo so se penso a una facoltà abbastanza scientifica che richiede esercizi e cose del genere io vi consiglio anche tantissimo mi ricordo che anche quando ero a biologia davo sempre un tempo per fare determinati esercizi diciamo che sono anche una che per esempio quando schematizza fa io posso anche stare in giro anche se stare su un treno su un aereo in un bar in mezzo alla gente io studio tranquillamente però nel momento in cui magari devo ripetere preferisco essere in un luogo chiuso ripetere a blocchi poi uscire fare altro poi ricominciare quindi diciamo che come luogo preferisco ripetere in casa prima per avere padronanza di tutto il programma da sola e poi magari ripeto o a mia mamma o a mia fidanzata a volte vabbè dire la verità al mio fidanzato non è che ripeta tantissime cose nel senso che principalmente gli ripeto di più magari alcune cose tipo legate al tirocino o cose del genere è sempre stato così perché boh non lo so perché non mi va di tra virgolette sfruttarlo sotto questo punto di vista se alla fine riesco a fare le cose da sola preferisco farle da sola poi mi sembra sempre di rompere le palle perciò cerco di non romperle troppo sotto questo punto di vista oppure se no ripeto che è compagno di università oppure semplicemente ripeto da sola quindi questo qui era il mio modo di organizzare lo studio io spero ovviamente che questo video vi sia stato utile soprattutto che sia stato pratico e focalizzato su quello che volevate sapere e mi raccomando se appunto avete trovato questo video utile lasciate un like non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ovviamente se avete piacere di seguirmi in tutti i miei vari social Instagram, Facebook, Twitter io vi mando tanti patch e noi ci vediamo al prossimo video Cheers!